Tutti in fila per la prestazione particolare, perché oltre a mettere a disposizione la loro sapienza nella disciplina tradizionale del tui na, ovvero il più classico dei massaggi cinesi, l'extra era riservato al sesso. Si chiama proprio così tui na, il centro messo sotto sequestro, il centro dove sabato pomeriggio i carabinieri in borghese sono entrati cogliendo uno dei clienti intento a pagare dopo il massaggio a luci rosse. Pieno centro di Castelfranco, Borgo Padova e un viavai di uomini dai ventenni agli ottantenni che non poteva rimanere a lungo inosservato. Anche perché online il lancio di apertura del centro era stato decisamente esplicito, foto di giovani ragazze provocanti e descrizione di massaggi ben oltre il semplice relax. Chi voleva poteva aggiungere un extra, segnalazioni varie e indagini anche per cogliere l'attività in pieno svolgimento. Una decina di giorni di appostamenti per i militari fino ad avere la certezza del reato. Così è scattato il blitz che ha portato all'arresto della quarantenne cinese titolare del centro, residente ufficialmente a Ferrara ma di fatto gravitante a Castelfranco. E in quel momento in compagnia di altre due donne cinesi poco più giovani, oltre ai clienti, dai 50 e 70 fino a 100 euro per la prestazione che seguiva il massaggio di chi si era fatto attrarre dai massaggi provocanti. Decine e decine di castellani finite nella rete del sesso.